Avrebbero subito pressioni e non sarebbero stati sereni i giudici popolari che lo scorso 19 dicembre hanno emesso la sentenza per il processo in corte d'assise a Chieti in merito alla mega discarica dei veleni della Montedison di Bussi sul Tirino. Lo rivela oggi il Fatto Cotidiano in apertura. La procura di Pescara aveva chiesto la condanna per i 19 imputati appena che variavano da 4 a 12 anni per avvelenamento doloso delle acque e inquinamento doloso. La sentenza della corte d'assise ha invece assolto tutti dal primo reato perché il fatto non sussiste e derubricato il secondo accolposo, cosa che ha comportato una riduzione della pena a 5 anni poi prescritta per tutti. Due giudici popolari che hanno chiesto l'anonimato spiegano al giornale una che non ero serena quando hanno emesso la sentenza e la seconda che soprattutto nelle sue motivazioni proprio non mi riconosco. Ma le dico di più, ribadisce una dei giudici popolari, non abbiamo mai letto gli atti del processo. Stiamo parlando di un processo con un potenziale impatto economico di miliardi di euro, della qualità della vita di centinaia, di migliaia di persone, dello Stato, dell'ambiente e di un'intera vallata. Giudici popolari che ammetterebbero di non aver letto gli atti processuali, di non essere stati sereni nella decisione e di non riconoscersi nella sentenza. Il presidente della Corte Romandini che si trincera anche in relazione a una scena in locale pubblico, dietro al segreto della Camera di Consiglio, non commentando una frase che avrebbe pronunciato che il Fatto Quotidiano riporta anche nel titolo per la sua rilevanza in questo racconto. Stiamo già valutando con i nostri avvocati un eventuale esposto e l'immediato commento che è arrivato dal forum H2O. Grazie a tutti.